Il sport è una componente fondamentale. Io personalmente mi sto allenando per il campionato studentesco di sci. L'ebbrezza di una cavalcata nella neve dell'aceno, il divertimento di una discesa con lo slittino, il fascino di una natura incontaminata esplorata con le ciaspole. La stagione sciistica tarda a decollare per le temperature altissime, poco importa, della neve ci si innamora in mille modi. Sulla neve si danza e canta con i cento carnevali irpieni, i colori di un folklore ormai noto in tutta Italia. Ci si diverte all'insegna di una sana aggregazione. Che cosa vi è piaciuto fare di più oggi? La ciaspolate è stata la cosa più bella della mia vita. Noi siamo la squadra che abbiamo avuto il tira alla fune. Ciaspolate, tree climbing, escursioni di sci alpinismo, equitazione, bersagli centrati tra alberi innevati. L'altopiano dell'aceno si anima con la tradizionale manifestazione della Wisp campana, innamorati della neve, centinaia di ragazzi giunti dalle scuole di tutta la regione e lo sport si trasforma in uno strumento fondamentale per la valorizzazione del territorio. Tante attività a prescindere dal fenomeno neve e questo dice lunga su quelle che possono essere anche le occasioni di sviluppo di questo territorio, dell'aceno. Sviluppo che guardi più alla destagionalizzazione di questa stazione che non può vivere di sola neve.